I promessi di Dio hanno un valore infinito e quindi dobbiamo essere certi di questa presenza. Ecco, io poi mi pregherò per questa mostra, ecco, speriamo che poi si diffondi e poi voi avete anche queste belle realtà, maggiore, queste cose vicine, speriamo che sono già affari di luce, che però anche questa mostra possa girare anche in altre nazioni, ecco, a voi vicine, che così possa risvegliare la fede, perché ce n'è veramente bisogno, e quindi io posso essere uno strumento molto utile ed efficace. Allora, grazie per questo tempo preziosissimo, anche per questo sacrificio di tutta la famiglia, lei spero che Dio fa anche attraverso questo tempo toccare altre persone, io devo impegnarmi a tradurre questo messaggio a Bicet, allora tutto, e grazie per il tempo, speriamo di continuare e vedere, forse succeda una possibilità di vederci in Croazia. Certo, assolutamente. Grazie, arrivederci. A Pasqua e arrivederci a tutti. Arrivederci.